Il santo non è il superuomo che vive dalle nuvole in su. Il santo è uno che la grazia della fede mette nelle condizioni migliori per vivere con tutta la ricchezza, la complessità e l'originalità del proprio temperamento. Non fuori dal mondo, ma nel mondo, tanto da diventare sorgenti di un popolo. Venerdì 16 giugno alle 21.30, tu le torni. Visione del docufilm di Cristiana Video, super Giorgio Frassati, scritto e diretto da Daniela Gurrieri.